Quando loro vanno in basso, quello è il momento in cui noi dobbiamo rialzare il tono e puntare in alto. Oggi abbiamo assistito a un dibattito parlamentare in cui, a fronte di una richiesta di discussione sull'Europa, la risposta è stata sui temi più piccoli e banali e totalmente slegati dal Consiglio europeo. Felici noi se nei mesi che ci separano da qui, a Roma 2017, saremo in grado di rimettere con lo spirito dei padri fondatori e con le ansie e le inquietudini dei figli che attendono risposta da noi, l'Europa al centro del dibattito e non le piccole beghe quotidiane di chi non ha voglia di lavorare per ma solo contro. La ringrazio, Presidente Renzi. Allora, prima di passare alla risoluzione c'era il deputato Federico Fedriga per un richiamo al regolamento. Prego. Grazie, Presidente. All'articolo 58 è il seguente. Io le chiedo, Presidente, che questo Parlamento sia tutelato perché va bene un dibattito anche forte, aspro e duro, però che il Presidente del Consiglio si rivolga a un Presidente di gruppo dicendo che non parlavo del nulla perché non parlavo di lei, penso che sia inaccettabile e penso che la Presidenza debba sanzionare la Presidenza del Consiglio perché qui non siamo in un baretto dove Renzi viene a fare il bulletto di quartiere, ma siamo in un'aula parlamentare. Va bene il dibattito duro. Io non mi sottraggo a parole forti e Tony Aspri, ma dire che il Presidente Brunetta è nulla dal Presidente del Consiglio penso sia inaccettabile e penso che serva un richiamo da parte della Presidenza. Grazie.